Abito in campagna e in primavera estate, uscendo dalla porta, può capitare di trovare qualche animaletto selvatico. A fine marzo, come vedete, ci si può imbattere in una fila di bruchi pelosi in lento movimento. In questo caso forse è anche semplice arrivare a determinare di chi si tratta. Processionaria del pino, bruco pericoloso per l'uomo e gli animali domestici se non trattato adeguatamente. Appena visto mi è sembrato strano si stessero muovendo proprio in quella direzione, dato che i pini sono dall'altra parte e in quella direzione non ce ne sono. Dopo essermi informato, ho scoperto che la processionaria sverna come bruco in ripari di seta sui pini dove ha pasteggiato e in primavera va ad impuparsi scendendo dal pino. Non conoscere gli insetti come vedrete prossimamente spesso a brutte conseguenze.